Per gli amanti dell'eccellenza e delle tipicità, le festività natalizie hanno un sapore speciale, grazie a Gusti Italia 2014, che dal 26 al 28 dicembre si svolgerà in uno dei punti più amati dei cittadini di Reggio Calabria, ovvero Piazza Italia. L'evento, che presenta un programma ricco di sorprese, è realizzato dall'Associazione IDEA, con il patrocino del Comune di Reggio Calabria, della provincia e del Costiglio regionale della Calabria, e consentirà a circa 30 artigiani locali di proporre le proprie specialità nel contesto di un innovativo percorso degustativo. La Kermess intende coniugare la qualità dell'enogastronomia locale ad un variegato cartellone di eventi e di occasioni di intrattenimento, senza perdere di vista al contempo l'aspetto benefico. I visitatori che vorranno addentrarsi nel percorso degustativo all'aperto, infatti, potranno contribuire con la donazione di un euro a sostenere la campagna Unicef 100% Vacciniamoli Tutti. La peculiarità e la creatività insite nella tradizione culinare regina, seppur con significative contaminazioni e innovazioni, saranno al centro della tre giorni. All'interno del fitto calendario di iniziative di scena a Piazza Italia si evidenziano dei veri e propri eventi, come i cooking show dello chef Enzo Cannatà e la presenza della naturopata Patrizia Pellegrini, previsti entrambi per sabato 27 dicembre.